cioè se Dio avesse pensato alla danza, avrebbe pensato anche la nostra carova e quindi ci rende orgogliosi avere questa straordinaria danzatrice ci rende ancora più orgogliosi avere questa straordinaria danzatrice insieme ad un altro grande e straordinario danzatore che non è più una donna che ho visto da qualche tempo e mi piace molto di essere qui grazie e questo lo dico perché a volte mettere in anellare tutti questi premi queste nomination che danzeranno insieme pensate che bello, non accade in nessun'altra parte del mondo che una danzatrice come la Zakarova danzi con un altro premiato nella stessa sera o viceversa quindi questo è un po' anche il bello di Positano che è spartana, c'è un palco sulla spiaggia, tutto umido i danzatori che ballano classico a due punte potete immaginare in un palcoscenico spesso bagnato quindi sono degli eroi cioè bagnare nell'umido e quindi non accade in nessun'altra parte del mondo che in un premio si balli sulla spiaggia quindi noi da quando c'è questo sindaco abbiamo deciso di chiamarla la spiaggia storica di Positano e quindi questo premio che è, ricordiamolo, insomma, ideato e totalmente veramente, credetemi, quasi totalmente sugli investimenti del comune di Positano e con anche una piccola partnership o propulsione della regione Campania questo premio non ha mai fatto scendere il livello e quest'anno si dimostra ancora di più un premio che può anche dire la sua per quanto riguarda tutta una serie di collaborazioni comincio con il Teatro di San Carlo il premio è un pozzetto di scena di Paolo Ricci realizzato per il Balletto Petrusca che quindi ci fa, che è riprodotto dall'originale del Teatro San Carlo nell'archivio del San Carlo e ci rimanda a quella che è stata la straordinaria stagione delle Valorosti di Amilè premiamo la carriera premio la carriera quest'anno il grandissimo, una grandissima carriera nasce un guato che oltre ad aver diretto tre compagnie importanti è stato un grandissimo danzatore e coreografo e sarà presente con noi e avrà un omaggio di due danzatori del Balletto di Madrid che danzeranno in suo onore abbiamo, che direi, che sono inginocchiata davanti a lui il maestro Gilbert Ramon Maier è qui lo vedo eccolo qua grazie accortato a tenere generazioni di danzatori insegnando loro cos'è lo stile francese del Balletto poi abbiamo Basim Muntagiro il straordinario ballerino del Boida Ballet regno il nostro premio congiunto Cositano Mosca bella Massim poi abbiamo una delle queste che però non vedo ancora da me non è una cosa è stata solista cubana dell'Opera Pizza della montagna di Vittorio Lugliate poi abbiamo dov'è? la vedo la nostra Camilla dov'è? eccola Camilla Massim classe 1998 quindi una grande promessa perché i grandi danzatori oggi sono stati giovani danzatori sono stati delle promesse quindi ti auguriamo grazie parto ripositando tutto il bene del mondo abbiamo Macchia Semperboni della Scala Danzatori non c'è qui però abbiamo Salvatore Manzo del Teatro di San Carlo e non la vedo dov'è? Luna Cenele ed è adesso artista che fa per dire a ULAC in questo importantissimo festival di Oriente Occidente e diciamo che ha puntato su di te per primo possiamo dirlo vi ringraziamo Bernardo Cepino di Cotter dove è? che è prima ha puntato su di te voglio ringraziare assolutamente per il quarto anno il nostro straordinario la Cassazione della Danza coordinatore della giuria e consulente artistico Alfio Agostini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti manca il premio Vespoli che è dato ad un direttore di Museo di Museo archeologico nazionale di Napoli che si è distinto per la sua direzione eh Andrea molto allargata e quasi performativa come la nostra grazie a tutti e la giuria una straordinaria giuria Galleria Clippa del Corriere della Sera Geneta Ventivoglio della Repubblica che domani farà uno straordinario omaggio a Tina D'Auscia dieci anni dalla sua morte eh con una cosa particolare non vi dico cosa così venite a vedere eh Gerald Outer del Financial Times Gianpiet Bastoli grazie Gianpiet grazie a tutti Roger Salas del Paese e Nina io e adesso la parola a Odio quando ci dà se siamo con un'idea di lucida grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.